Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questo è un video molto breve e diverso dal solito perché voglio dirvi che adesso potete abbonarvi al mio canale se volete supportare il progetto. Ci sono 4 tipi diversi di abbonamenti. Il primo è da 1€ al mese e avrete alcuni vantaggi come per esempio un badge vicino al vostro nome come quello di Kaito Kid o quello di Conan che cambierà con il passare del tempo. Poi avrete delle emoji personalizzate nelle chat durante le live che farò sempre più spesso. Poi c'è il secondo livello che è quello da 2,99€ al mese che ho chiamato FBI in cui in più rispetto ai vantaggi del primo abbonamento avrete dei sondaggi riservati nella scheda community per magari consigli su video eccetera. E in più ci sarà anche una chat room riservata agli abbonati infatti creerò un server discord solo per gli abbonati in cui potete discutere di Conan. Vi aggiornerò sulle novità appunto di Conan, sull'anime, sul manga, magari sul doppiaggio, sull'uscita dei video e anche su qualsiasi altro argomento insomma poi vedrete meglio. Il terzo livello è di 5€ al mese ed è MIB in cui avrete tutti i vantaggi precedenti e in più avete un accesso in anteprima ai nuovi video quindi un video che uscirà lunedì alle 2 ve lo mostrerò in anticipo non so ancora quando di preciso magari verso venerdì o qualcosa del genere. In più avete degli aggiornamenti di foto e stato sul post della community. Poi c'è l'ultimo che è di 25€ al mese che ha ovviamente tutti gli stessi vantaggi e in più avrà dei video esclusivi agli abbonati infatti voi potete richiedermi qualsiasi video a tema Detective Conan e io in meno tempo possibile lo farò e lo caricherò solamente per questo livello di abbonati. Quindi niente ragazzi se avete la possibilità vi invito ad abbonarvi al canale per supportare il progetto ovviamente ragazzi va bene qualsiasi tipo di abbonamento a qualsiasi prezzo andrà a vostra descrizione se per qualsiasi motivo non potete abbonarvi o comunque supportate il canale con un'iscrizione se ancora non vi siete iscritti e guardando i video e lasciando like per far continuare questo progetto. Ringrazio chiunque si abbonate al canale e niente ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao a tutti.